Il mondo in questo momento è una locomotiva che corre a 100 km all'ora verso il futuro. Ma perché si deve fermare e perdere tempo per una guerra? Che rischieranno la vita se non lo so che ho una follia, ma che succede se non riparti se resti qui? Magari ti nascondi in campagna all'inizio, poi quando è finita la guerra cosa possono farti più? Ma c'è la corte marziale, c'è la fusilazione. Allora andiamo al distretto militare e diciamo che mi serve in tipografia, che ho l'artrosi alle mani, che non posso più lavorare. Tu sei figlio unico, dovrebbero capire. Papà, papà stai tranquillo, io tornerò. Papà! 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 Aaaaaaah!